secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie ciao gab ma tu sei mai stato a mestre venezia perché credo di averti visto o se no era uno che ti assomigliava era uno che mi assomigliava mai stato a mestre o mai stato a venezia sono stato a padova una volta bella padova la prima volta che sono andato a padova era per una figa avevo 16 anni o 17 e sono andato libero una figa e basta poi questa è la mia esperienza parco dietro le colonne non so se prende le colonne di san lorenzo no non ce l'ho presente stavo dietro sto parco vabbè che è un parco un po di tossichelli però ci stanno i tossichelli quelli da liceo artistico non ci stanno in mananza e praticamente beh questo gruppo di 15 16 anni ma saranno stati in 10 una lecina comunque e porco zio cioè fra te questi hanno iniziato a rincorrermi calciarmi tipo hanno iniziato a provare a tirarmi i calci che cazzo si sia a sputarmi allora io ho preso sono corso via con la live grazie no ragazzi basta con questi messaggi un euro e 76 centesimi per chiedere alla chat se hanno voglia di spendere un euro e 76 centesimi per supportare il nostro gambler grazie roberto goods per il prime un brumatura latina chat aperta bro tris perfetto adesso regali 20 sub che ne pensi sono d'accordo ma anche un tris qualsiasi ti giuro non è vero 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 ma non è vero non è vero regala 20 sub regala cazzo subito immediatamente porca madonna subito mi sta capitando più di incontrare tipo degli npc bro capisci tipo delle persone che che sembrano che tipo ti attivino delle queste secondarie cioè non mi sembra più di incontrare sempre foto non lo so forse è più bello meglio tipo bro oggi da primark o il commesso di primark siamo rimasti lì arrivo subito è vai vai qua continua andare dai piccola ma consegna di cocogna scusami bro scusami scusami non è vero sono dignitosamente brillo signor di twitch oh ciao colin auguri ma cosa c'hai sulla faccia eh non posso dirlo va bene buon natale gab buon natale auguri è che non tutti si ti sono bannati va bene fatto sta che il suo gambling mi fa cagare al cazzo e che si vede lontano un miglio che non ci mette emozione quando gioca e poi viene a dirmi io non sono come il gabrone justice che mi metto a piangere perché mi gioco cifre che non posso permettermi no esatto tu non ti giochi letteralmente niente perché non puoi permetterti neanche le cifre che giochiamo c'è neanche neanche il minimo indispensabile perché non giochi soldi tuoi e mille per ragazzo oh lavora godere ragazzo guardiamo sì crediamo sì e giochiamo gratis e dai eh venga ora non si perde più cazzo sono tre serie di fila che ecco la labbro ha detto eh guarda io ti direi fai 10 giri a 2 euro sì sì con la doppia fai fino a 1100 e ce ne andiamo e 50 dai ma che cazzo è assurdo assurdo dove andiamo vado a pisciare un attimo tu decide nipoli 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 fammi un po' di bj dopo questa no ma non c'ho 28 anni raga mi nonno che 28 anni io non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è ma ancora stacchi dipende come va il gambling ragazzi dipende ancora stacca redes Dio canne potr- Quattro? Bru? Bru? Oh, 3 euro, no Dio Cristo. Queste sono le slot che c'è gente che se no mi caccia. Oh, qua? Un cazzo. Sì, ma porco zio. Madre di Dio. Oh, bonus. Bonus. Bonus, bonus, bonus. Calma, calma, calma. No, probabilmente spawnano i wild. Ogni volta che hita te li moltiplica. Cioè fa per 3, per 9, per 27, per 81. Vabbè, ma lo vedi tanto. Bello. Ok, vedi, spawnano i wild. Adesso. Ok. Ah, minchia, può essere per 3 la... Porco d'inci. Due. Non ce le ho dato. I limoni. Che cazzo! Da 60 euro! Esplosa. Pro! Preleviamo tutto! Beviamo ancora. Beviamo ancora, cazzo! Oh, mica è finito. Oh, è una magia del notano. Porca puttana! Madonna, porco Dio! Dove puoi infilare il cazzo? Ok, questo è il numero 10. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Piccola! Yes, sir! Piccola! Yes, sir! Piccola! E mo' ci rigiriamo a sto cazzo di Van Bonus! E mo' ci rigiriamo a sto cazzo di Van Bonus! Calma! Calma! Ma porco Dio, ho 10! Dove puoi infilare il cazzo? C'hai vent'anni e non c'hai bisogno mai, per forza. Cominciamo ad uscire. Che cazzo vuoi, bro? Faccio cercare della figa vera. Oddio! 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 Ma che cazzo? Minchia, bro. Che cazzo? Da 60 euro! Sì, veramente bello, però, eh. Cazzo, non c'ho taglio, troppo Dio. Devo fare una spezia. Bro, devi andare... Tu, Gianmati, che anno sei? Io del 96. Porca troia! Bravo. Ma sai come ho conosciuto io? Adesso ti racconterò una roba un po' mimosa. Machciù, se bravo, un palo.